Parliamo del teorema di Cauchy Il teorema sotto determinate ipotesi dice questo che da due funzioni f e g il rapporto delle derivate f' in un opportuno punto c che appartiene all'intervallo a b è g' c è uguale al rapporto degli incrementi delta con f fratto delta con g dove delta con f è f con b meno f con a e delta con c è g con b meno g con a naturalmente facciamo riferimento ad un intervallo a b passiamo alla slide successiva vediamo le ipotesi f e g funzioni continue nell'intervallo chiuso e limitato a b e derivabili nell'intervallo aperto a b si chiede che la derivata prima di g sia diversa da 0 nell'intervallo a b quindi queste sono le ipotesi per dimostrare il teorema la tesi è quello che abbiamo prima enunciato cioè esiste almeno un punto c appartenente ad a b in cui il rapporto delle derivate di f' e g' calcolate in c è uguale al rapporto degli incrementi delle due funzioni f e g ricordiamo che il teorema di Cauchy l'abbiamo adoperato per dimostrare il teorema di Del'Hopital dimostrazione in intervallo a b definiamo una funzione la chiamiamo h con t e questa funzione ha questa caratteristica è differenza di f b meno f con a per g con t meno gb meno g con a per f e t è una funzione continua e derivabile ottenuta con operazioni sulle funzioni f e g che sono, abbiamo detto, come ipotesi continue e derivabili quindi in a b h t appunto soddisfa l'ipotesi di continuità e derivabilità continuità nell'intervallo chiuso a b derivabilità nell'intervallo aperto a b inoltre possiamo verificare che h nel punto a vale se sostituiamo al posto di t i voli di a abbiamo f b meno f con a che moltiplica g con a io naturalmente faccio riferimento alla espressione seguente quindi f b meno fa per g con a meno gb meno g a per f con a poi calcolo h in b come f b meno fa per g b meno gb meno g a per f b quindi si verifica che h con a e h con b assumono valori uguali quindi questa è una funzione che oltre ad essere continua e derivabile in a b assume valori uguali alle estremi quindi soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle e Rolle ci dice che se una funzione continua in a b derivabile in a b aperto con valori uguali alle estremi ammette a meno un punto interno all'intervallo a b in cui si annulla la derivata in cui la tangente alla curva è orizzontale e quindi diciamo che esiste questo punto c in cui accade che h primo di c uguale a zero per il teorema di Rolle e quindi poniamo naturalmente tornando indietro io derivo questa funzione e dopodiché sostituendo il valore c al posto della variabile t ottengo qui che la derivata prima la pongo uguale a zero naturalmente la derivata è facile da calcolare d'altronde la derivata di ht è fb meno fa nella parenza uguale una costante quindi una costante si riscrive che moltiplica la derivata di g primo meno gb meno ga nella parenza uguale una costante che moltiplica f primo nel punto c perché abbiamo detto che per il teorema di Rolle esiste questo punto almeno uno non esiste da qui noi ricaviamo dalla stessa formula io ricavo che f primo c su g primo c è uguale a fb meno fa fratto gb meno ga quindi ecco la dimostrazione del teorema di Cauchy con questa ultima slide terminiamo la video lezione si invita uno a consultare ulteriore materiale sullo stesso canale youtube in riferimento ai teoremi sulle funzioni derivabili e sul sito maripetracca.blogspot.it fine la video lezione